E salve tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video domenicale in cui riassumeremo delle novità più interessanti accadute durante l'ultima settimana E preparatevi perché qui ne abbiamo veramente tante Ho ascoltato molti commenti che mi hanno chiesto comunque di non parlare solamente di Apple Infatti abbiamo moltissimi brand, moltissime vicissitudini che sono successe da analizzare Di cui una molto molto particolare e molto importante che non ricopre solo il tema dell'informatica ma soprattutto ricopre il tema della politica Quindi avrete capito che è una puntata un po' speciale, non perdiamo tempo e cominciamo subito Ovviamente avrete già capito qual è quella notizia e di cosa sto parlando Parliamo di Huawei che a molti a primo udito ricorderà semplicemente una ditta produttrice di smartphone In realtà Huawei è aperta dal 1988, è un'azienda che produce fatturati di decine di miliardi di dollari E il suo fondatore, ovvero Ren Zhengfei, ha una figlia, Meng Wanzhou Che non è soltanto sua figlia, è anche diventata la CFO, direttore finanziario nonché vicepresidente dell'azienda Huawei È stata arrestata il primo dicembre a Vancouver per ordine delle autorità statunitensi Questa notizia è molto importante, questo non è un canale di politica e questa più che una notizia tecnologica è appunto una notizia politica Ma a parte questo nessuno ha ancora ben chiari i motivi del suo arresto Comunque c'è un video di Breaking Italy dove il mitico Shine parla sicuramente molto meglio di me Quindi se volete approfondire la questione da un punto di vista politico vi invito a guardare il suo video Ve lo lascio qua sopra nelle schede oppure qua sotto in descrizione Il tutto sembra comunque centrale con il tema cyber security Perché Huawei non è solo una ditta produttrice di smartphone, esiste dall'88 Il primo smartphone lo ha svelato nel 2009, quindi avrà fatto qualcosa in quest'arco temporale Huawei è la più grande azienda del mondo per quanto riguarda le telecomunicazioni La produzione di infrastrutture per la diffusione di reti E questo porta ovviamente delle responsabilità e dei casini nella cyber security che non sono piaciuti a Trump Ed ecco perché a quanto pare è stata arrestata Non sappiamo ancora niente, non sappiamo ancora le motivazioni ufficiali Quindi è tutto un gigantesco punto di domanda Io però ve ne volevo parlare un attimo perché l'importanza di questa notizia è molto più grande di quanto si possa immaginare Adesso parliamo di argomenti più tranquilli, più leggeri Ma restiamo sempre in tema 5G, connettività, reti mobili Perché secondo quanto sostiene Qualcomm, alla fine del 2019 tutte le case produttrici di smartphone Android Avranno i loro modelli flagship di smartphone con il 5G abilitato e funzionante Ovviamente in America, l'Italia fa eccezione Per essere più specifico, i primi smartphone dotati di connettività 5G verranno rilasciati nel primo trimestre del 2019 Saranno diciamo il Kickstarter, il calcio d'inizio In particolare Samsung avrà dei modelli di smartphone che supporteranno il 5G di AT&T e Verizon entro i primi 6 mesi del 2019 E appunto Cristiano Amon, il presidente di Qualcomm, dichiara che entro la fine del 2019 Ogni brand avrà almeno uno smartphone flagship con il 5G abilitato Invece Apple sembra che non introdurrà la tecnologia 5G fino al 2020 nei suoi smartphone Non si sa ancora bene perché e non si sa ancora poi effettivamente se sarà così Però insomma staremo a vedere Adesso invece parliamo proprio di Apple Infatti secondo un reportage ufficiale iOS 12 sarebbe stato installato sul 70% dei dispositivi che lo supportano Questo perlomeno secondo i dati raccolti lunedì 3 dicembre E come potete vedere il 70% dei dispositivi esegue iOS 12 Poi invece della fetta di torta rimanente Il 21% esegue iOS 11 E il restante 9% esegue versioni di iOS 10 o inferiore E per fare una comparazione con l'anno scorso Dei dati rilevati in una data molto simile Ovvero il 4 dicembre del 2017 Affermavano che iOS 11 Che ai tempi era l'ultima versione disponibile Era installata sul 59% dei dispositivi compatibili Quindi diciamo un miglioramento dell'11% circa Parliamo adesso ancora di Apple E questa è una notizia che ha fatto una breccia speciale nel mio cuore Perché a quanto pare starebbe lavorando a una smart battery case per i nuovi modelli di iPhone Ma prima di parlarne facciamo un passo indietro Chi se la ricorda? La smart battery case era stata rilasciata proprio in periodo natalizio di qualche anno fa Per l'iPhone 6, 6S e l'anno successivo per l'iPhone 7 Design che all'inizio era stato criticato pesantemente In effetti anche adesso è un po' anacronistico Ti lascio un po' quel senso di dubbio Però una seconda batteria che duplica l'autonomia di un iPhone effettivamente è utile Purtroppo non è andato molto bene questo progetto Non tanto perché non è mai stata realizzata per i modelli Plus Perché secondo Apple un iPhone 6 Plus o un iPhone 6S Plus non hanno bisogno di questo accessorio Perché i modelli Plus hanno la batteria grande No più che altro non se ne sente più parlare perché poi non è più stata realizzata per i modelli successivi Non ce n'è una per l'iPhone 8 e 8 Plus Così come non ce n'è una per l'iPhone X, XS e XS Max Fino a quanto pare ad ora Perché è successo qualcosa che non denominerei un rumor o un concept Più che altro è un leak, è un qualcosa di molto più sicuro E sto parlando di questa Un'innocente immagine che è stata trovata in un software di WatchOS Che ritrae appunto una Smart Battery Case La cosa interessante è che l'immagine precedente era questa Che mostra la Smart Battery Case attuale Quindi con l'intaglio della fotocamera orizzontale E un abbondante spazio sul fondo Chiamiamolo mento insomma Diciamo che è un'immagine stilizzata Con bacia no? Con l'attuale Smart Battery Case Ebbene nella build di WatchOS 5.1.2 Che è molto recente Quest'immagine è diventata così Come potete vedere questa nuova rappresentazione Mostra l'anello della fotocamera verticale E praticamente bordi inesistenti Persino nella parte inferiore Cosa che avrebbe un senso per un nuovo design Di un'ipotetica Smart Battery Case Perché sarebbe più in linea con il design attuale del 2018 Quindi secondo me una Smart Battery Case nuova arriverà Purtroppo questo è il mio modo di vedere le cose Secondo me Apple la farà solo per l'iPhone X Non per l'iPhone XS Max Io ho un iPhone XS Max Quindi secondo me dovrò attaccarmi al p***o Però mai dire mai Intanto sappiamo che qualcosa bolle in pentola ed è in programma Invece adesso parliamo un po' di concorrenza In particolare dei due colossi avversari di Apple Google e Amazon Per quanto riguarda quantomeno gli assistenti vocali Infatti non so se l'avete notato anche voi Ma ultimamente c'è una guerra di assistenti vocali Amazon Alexa Google Home Apple HomePod A quanto pare Google e Amazon vorrebbero anche mettersi a fare la loro versione delle Airpods È innegabile ragazzi Le Airpods sono state una vittoria sotto ogni punto di vista Sono un prodotto perfetto E non lo dico soltanto io Lo dice per esempio anche Min Chi Kuo Che è un'analista molto affidabile Che ha questa teoria Ve la traduco dal testo inglese Crediamo che il successo delle Airpods Abbia attirato l'attenzione di Google e Amazon E queste due compagnie lanceranno dei prodotti simili alle Airpods Nella seconda metà del 2019 Le spedizioni, le vendite quindi Combinate tra i due nuovi brand È probabile che raggiungeranno le 10-20 milioni di unità Nella seconda metà del 2019 Google e Amazon Sono i competitori principali di Apple Perché Google è il brand più influente nell'ecosistema Android E Amazon ha il miglior assistente vocale E su quest'ultima affermazione non posso che trovarmi in completo accordo Infatti presto vedrete una recensione completa Degli Amazon Echo Ovvero degli speaker intelligenti basati su Amazon Alexa Perché sono fenomenali Vedremo poi se Google e Amazon lanceranno veramente anche delle alternative alle Airpods Quello che sto notando ragazzi È che si stanno creando degli ecosistemi un po' troppo radicati C'è tutto l'ecosistema Google Tutto l'ecosistema Amazon E tutto l'ecosistema Apple Io capisco che le aziende si debbano fare concorrenza Ma avere tutte queste alternative che non comunicano tra loro Non è bello per noi appassionati tech Perché ci obbliga a fare una scelta alla fine Una scelta esclude tutti gli altri E non è bella questa cosa Però cosa ci dobbiamo fare? E chiudiamo col botto ragazzi Vi faccio chiudere veramente facendovi ridere Molti mi hanno passato Dopo il video che ho fatto riguardante la figura di Microsoft Che aveva presentato un prodotto web Sul suo browser Microsoft Edge Ed era crashato durante la presentazione Allora, perché stiamo parlando qui? Sono andato a installare Chrome Ah, uno, uno Che c***o ridi? Ecco in seguito molti mi hanno linkato il comunicato Che Microsoft stessa ha diffuso qualche giorno fa Molti di voi si sono focalizzati sull'effettiva intenzione Ed è una cosa ufficiale di Microsoft Che ricostruirà completamente Microsoft Edge Basandolo su Chromium Quindi già Microsoft Edge che si basa su Chromium Che è il motore su cui si basa Chrome È abbastanza comico Ma la cosa più comica è che Microsoft ha annunciato Che questa nuova versione di Microsoft Edge nel 2019 Arriverà anche su Mac Ok, penso di averle viste tutte adesso Però in effetti ricordiamoci che l'unico browser Quindi anche quello di default Dal 1998 fino al 2003 Sui Mac era proprio Internet Explorer Perché Safari non era ancora stato sviluppato Quindi la storia si ripete Detto questo ragazzi Queste erano le novità più interessanti Che avevo per voi questa settimana Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video